Ma il fenomeno UFO sembra essere presente già in un lontanissimo passato. Queste sono alcune delle tante incisioni scoperte nelle caverne, testimonianze vecchie di migliaia di anni. Iraq. Secondo alcuni studiosi troviamo informazioni dettagliatissime sugli UFO e gli extraterrestri nell'antica cultura sumera, considerata culla della nostra cultura con conoscenze astronomiche stupefacenti. Epoca oltre 6.000 anni prima di Cristo. Ce ne parla Zakaria Sitchin, uno dei massimi specialisti del periodo e assertore di questa tesi. Se qualcuno mi chiedesse da dove le è venuta quest'idea, gli risponderei che so leggere le tavole dei sumeri e che è questo che dicono. Dicono che il nostro sistema solare è composto di 12 membri. Lo hanno scritto non una, ma tante volte. I sumeri dicevano già che il sole sta al centro del nostro sistema e non la Terra, come sostenevano i greci e altri. Poi c'è la luna e i sumeri spiegano perché è una cosa a sé stante. E poi dicevano che ci sono 10 pianeti e non 9, come si è poi sempre pensato. Vede, sono molto contento che gli astronomi d'oggi lo stiano cercando perché ne sospettano l'esistenza. Lo chiamano il pianeta X. È il decimo pianeta. Già altre conoscenze sumere sono state confermate. I sumeri chiamavano il pianeta X Nibiru, che significa il pianeta dell'incrocio. Il suo antico simbolo era la croce, non la croce risalente al tempo dei cristiani, ma a 6.000 anni prima di Cristo. Dissero inoltre che esso era il dodicesimo membro del nostro sistema solare, con un'orbita molto ampia di 3.600 anni e che ogni 3.600 anni, passando tra Marte e Giove, si avvicina a noi, alla Terra. 450.000 anni fa, dicono i sumeri, in occasione di uno di questi passaggi, degli esseri del tutto simili a noi, non con la pelle verde o le antenne sulla testa, scesero sulla Terra. E ciò si ripetè molte volte in seguito. Sono gli Anunnaki. Perché ci somigliano? Siamo noi che somigliamo loro. Perché se conosce la Bibbia, che si basa in buona parte sulla tradizione sumera, ad un certo punto gli Anunnaki compirono delle manipolazioni genetiche, mischiando i loro geni con quelli dell'Homo Erectus, facendolo diventare l'Homo Sapiens. Anunnaki significa coloro che giunsero dal cielo sulla Terra. Vennero tante volte, ogni 3.600 anni. Lo scopo originario delle loro visite fu quello di cercare l'oro, non per farne gioielli o monete, ma per poter sopravvivere sul loro pianeta. Tutto ciò che sto dicendo fu dettato dagli Anunnaki ai Sumeri. Vennero sulla Terra, si diceva, perché l'atmosfera sul loro pianeta si stava esaurendo. l'atmosfera non solo serviva a respirare, ma tratteneva anche il calore del pianeta, cosa fondamentale perché Nibiru si allontana molto dal Sole. senza atmosfera la vita non era possibile. I loro scienziati pensarono perciò di creare uno scudo di particelle d'oro attorno a Nibiru e pare che la Terra fosse l'unico pianeta ad avere oro. Tutte le religioni più note parlano di un futuro ritorno degli dèi, l'induismo, la tradizione maya, il cristianesimo, che parla del ritorno del regno dei cieli sulla Terra. L'ebraismo, che attende l'arrivo del Messia. Pur con differenze, c'è un po' ovunque l'attesa del ritorno. Secondo il calendario maya, il 2012 potrebbe essere l'anno del ritorno. Mi sembra che ci siano molti segni che indicano che qualcosa sta per accadere, ma non sono in grado di dire una data precisa. La domanda davvero importante, secondo me, è cosa accadrà quando torneranno. Se si studia l'evoluzione della nostra civiltà, si noterà che ogni 3600 anni c'è stato un passaggio fondamentale, il neolitico, il mesolitico, eccetera. È come se ogni volta che sono venuti ci abbiano osservati e abbiano pensato diamogli qualche conoscenza in più, più civiltà. Una volta dissero non va bene e ci fu il diluvio. Non so proprio cosa accadrà, non sono un profeta. Posso solo dire ciò che è successo nel passato. Certo, sono cose assolutamente stupefacenti, ma questa tavoletta non può essere interpretata come raffigurante la discesa di un'astronave. E la questione di Dio? Ogni pianeta è un piccolo mondo e possiede un suo Dio, oppure c'è un unico Dio per tutto l'universo. Questo era ciò che credevano gli Anunnaki. Il loro Dio era il Dio dell'universo e questo è anche ciò che è detto nella Bibbia, in particolare nei testi dei profeti Geremia, Esaia, eccetera, in cui si parla di un Dio universale presente in tutto l'universo. Qual è il legame tra i Sumeri e gli antichi Egizi? Gli dèi erano gli stessi, anche se avevano nomi diversi, ma sono gli stessi, gli Anunnaki. Nella religione egizia il Faraone era considerato un semidio e in quanto tale, dopo la sua morte, aveva il diritto di intraprendere un viaggio in cui avrebbe raggiunto gli dèi sul loro pianeta. Quindi, l'intera religione egiziana, l'intera vita reale egiziana, tutti i monumenti, i templi, erano orientati al momento in cui il Faraone, morendo, veniva mummificato e raggiungeva gli dèi attraverso una porta volta verso Oriente. Nei miei libri descrivo questo viaggio, ma non come un viaggio mitico, è un viaggio reale dal porto spaziale degli Anunnaki, costruito dopo il diluvio, collegato alle piramidi che fungono dal luogo d'atterraggio. È proprio lì che i Faraoni egiziani desideravano congiungersi con gli dèi e partire per il viaggio verso il loro pianeta. Nessun Faraone ha mai costruito una piramide. Sono gli Anunnaki ad averle costruite come parte integrante di un luogo di atterraggio, di un porto spaziale nel Sinei. Anche negli antichi testi egizi è detto della discesa sulla terra di esseri venuti dal cielo. Certo sono cose sorprendenti, ma è quanto sostengono numerosi studiosi. Gli antichi egizi sostengono che i loro antenati erano venuti dalle stelle e che loro in quanto discendenti da quegli antenati un giorno sarebbero tornati da loro sulle stelle. Inoltre raccontano che quelle stelle sono nella costellazione di Orione. dei miei studi risulta che la disposizione delle piramidi corrisponde alla posizione della costellazione di Orione tanto tanto tempo fa. Ho calcolato che si risale al 10.500 prima di Cristo. Forse fu allora che accadde qualcosa di tanto straordinario da essere ricordato in modo così maestoso. e dai geroglifici risulta per me senza alcun dubbio che allora giunsero degli esseri dalle stelle. Gli antichi egizi conoscevano l'astronomia la geometria la costruzione eccetera è probabile che queste conoscenze vennero loro trasmesse da quei visitatori. Vede secondo molti egittologi le piramidi di Giza segnano l'inizio di una civiltà ma io non sono d'accordo secondo me si tratta invece di un traguardo di un apoteosi esprimono qualcosa che si andava preparando da molto tempo. Anche nella Bibbia ci sono episodi che potrebbero far pensare alla discesa di astronavi come quello del profeta Ezechiele e del carro di fuoco siamo nel 500 avanti Cristo Ezechiele descrive ciò che vede un carro luminoso che gli si avvicina ne descrive le ruote le ali il rumore che paragona al frastuono di un accampamento militare o al rombo di una grande massa d'acqua nell'intero racconto di Ezechiele perlomeno nell'originale ebraico non si nomina mai la parola Dio Ezechiele lavora nei campi insieme ad altri poi vede il carro di fuoco scendere si getta per terra impaurito in seguito ode una voce che nella sua lingua gli dice non temere figlio dell'uomo Ezechiele non ha più paura ora guarda il carro e lo descrive come lo splendore sulla cima vede qualcosa simile ad una pietra preziosa scintillante dentro cui vede un trono su cui siede una sorta di uomo sulla base delle descrizioni di Ezechiele l'ingegner Joseph Blomrich della NASA ha costruito una serie di modellini di aeromobili e l'ingegnere Hans Bayer addirittura l'aeroporto che avrebbe ospitato l'astronave di Ezechiele India Negli antichi testi vedici si trovano testimonianze di astronauti venuti da altri mondi e da altre dimensioni con esseri di razze diverse dai poteri straordinari vi sono antichi trattati che illustrano diversi tipi di astronavi e che ne spiegano il funzionamento sono i Vimana che ricordano molto ciò che oggi chiamiamo UFO capacità straordinarie di volo possibilità di scomparire e di ricomparire eccetera negli antichi testi si parla anche di oggetti parcheggiati nello spazio grandi come intere città e da cui partono oggetti più piccoli e armati che guerreggiano con altri oggetti volanti è ciò che è raccontato in numerosi antichi racconti vedici ma occorre leggerli in modo concreto non mitologico e tenendo conto del linguaggio spesso metaforico forzatamente legato a un grado di conoscenza tecnica modesto il fenomeno UFO e quanto è descritto negli antichi testi in sanscrito si riferiscono secondo me alla stessa realtà ritengo che si possa allargare il discorso anche a confronti con numerose altre culture a confronti con le descrizioni di creature di altre dimensioni dotate di poteri che noi chiamiamo paranormali o mistici gli stessi elementi sono presenti un po' ovunque secondo me questo prova l'autenticità dei diversi resoconti prova che persone di culture diverse hanno descritto le stesse cose che hanno realmente osservato non sono testi semplicemente speculativi o po nel Mahabharata un antico testo si può leggere la storia del rapimento di un re alcune creature lo portarono in un altro luogo e gli spiegarono che ciò faceva parte di un determinato disegno i particolari del rapimento di come trattarono e poi riportarono il rapito della sua reazione psicologica in particolare la presenza di un vuoto temporale mostrano molte analogie con i resoconti dei rapimenti odierni queste cose sono accadute allora e accadono ancora oggi ma c'è una radice comune tra le diverse culture le tradizioni dell'india antica contenute nei veda risalgono agli ariani una popolazione venuta dall'anatolia studiando questa e altre antiche culture scopriamo che tutte in lingue diverse dicono la stessa cosa hanno nomi diversi per designare gli stessi dei quelli dei sumeri ciò vale per i veda ma anche per gli aztechi che parlavano del dio Quetzal Quatl o per i maya che lo chiamavano Kukulkan due nomi per indicare il serpente alato chiamato Thoth dagli egizi in sudamerica lo si chiamava anche Viracocha bene se andate oltre al diverso contesto linguistico scoprirete che dietro si cela la stessa cosa e cioè gli Anunnaki scesi da Nibiru questa tesi di Sitchin di una radice comune è affascinante anche se molto discursa avvistamenti di UFO sono presenti in molte culture in quella greca si narra di corpi luminosi visti nel cielo i doxus in epoca romana Plinio Seneca Tito Livio parlano di fenomeni UFO in un libro di Giulio sequente sui prodigi del terzo secolo dopo Cristo è scritto di scudi ardenti volanti i clipei ardentes in taluni dipinti del Medioevo e del Rinascimento sono raffigurati degli UFO questa incisione del 1479 mostra un oggetto volante a forma di razzo nei fogli a stampa di Basilea del 1561 si vedono delle sfere nel cielo e in quelli di Norimberga sempre del 1561 delle colonne ardenti nello stesso periodo furono viste due sfere nel cielo di Hamburgo negli Stati Uniti verso la fine del secolo scorso furono più volte avvistate delle airships delle astronavi nel 1896 fu la volta di un disco sopra San Francisco nel 1909 in Gran Bretagna fu avvistata questa strana macchina volante la storia moderna degli UFO inizia il 24 giugno 1947 con l'avvistamento di un oggetto misterioso da parte del pilota americano Kenneth Arnold ma come mai gli UFO nel corso dei secoli hanno avuto forme tanto diverse? Penso che ci sia una spiegazione la mia ipotesi che ho chiamato ipotesi del mascheramento è che questi oggetti si adattano alla nostra immaginazione ciò che noi vediamo non sono delle astronavi nel senso in cui noi intendiamo i nostri razzi o le sonde spaziali sono delle proiezioni che possono anche assumere una forma materiale io penso che si adattino alle nostre concezioni del momento probabilmente per questo motivo nel medioevo si vedevano velieri e cento anni fa astronavi come quelle descritte da Jules Verne noi oggi invece vediamo dischi oggetti a forma di sigaro o più recentemente oggetti triangolari forse l'intero fenomeno UFO è una proiezione di un'intelligenza extraterrestre sempre adattata alla nostra immaginazione del momento ciò non significa però che il fenomeno UFO sia un'allucinazione collettiva vi sono infatti avvistamenti confermati dai radar tracce sul terreno con forti radiazioni e mutamenti chimici dove questi oggetti si sono posati è un enigma certo dietro cui si nascondono conoscenze di fisica per noi oggi impossibili entità di altri mondi e dimensioni è un campo coperto dal segreto militare anche se documenti ufficiali confermano l'autenticità del fenomeno un fenomeno che sembra collegarsi a questo complesso e misterioso tema è quello dei cerchi nei campi di grano la domanda che ci si può porre è c'è forse qualcuno che cerca di comunicarci qualcosa come già da migliaia di anni dagli anni 70 nel sud dell'Inghilterra sono stati osservati questi strani disegni che appaiono di notte all'improvviso subito si è pensato ad uno scherzo ciò che è vero in talunità ma lo studio del fenomeno indica che molti cerchi sono genuini sul posto si è rilevata una radioattività anomala e in laboratorio è stata appurata una mutazione della struttura dei semi inoltre le spighe sono solo piegate e non spezzate come è possibile e i campi sono stati ovviamente tenuti sotto controllo è un fenomeno autentico vi sono molti elementi per dire che qualcosa si muove nei campi di grano è difficile da vedere è come se ci fosse qualcosa che si piazza al centro e poi crea i disegni sono per lo più disegni circolari che al loro interno contengono figure geometriche più complesse i disegni sono situati lontano dalla strada anche a una distanza di 11 metri e senza che vi sia accesso al campo il fenomeno è presente in molti paesi non solo in inghilterra si osserva in tutto il mondo ci sono stati dei russi che sono venuti in inghilterra per vedere i cerchi nei campi di grano e per verificare se il fenomeno era simile a loro vi sono cerchi anche nel ghiaccio sui laghi ghiacciati come in svezia in canada sono stati visti enormi anelli intagliati nel ghiaccio e la cosa strana è che l'acqua in quel punto non gela più questa è una cosa che proprio non riusciamo a spiegarci a partire dal 1989 ci sono stati certamente dei falsi un po' ovunque nel mondo ma specialmente nel sud dell'inghilterra tuttavia il fenomeno è reale ed è molto importante ho una mia opinione sulla possibile origine dei cerchi cioè sulla provenienza degli autori il fenomeno dei cerchi nei campi presenta ha molte analogie con il fenomeno UFO dopo 12 anni di ricerche io che sono ingegnere chimico ritengo che dietro c'è un'intelligenza no non è uno scherzo persino il mio amico Nick Pope segretario generale dell'aeronautica militare è stato recentemente autorizzato a fare una dichiarazione personale è estremamente importante ha affermato che il fenomeno dei cerchi esiste realmente e che per ciò che riguarda gli UFO il 5% dei fenomeni aerei registrati dal ministero della difesa durante i tre anni del suo mandato il 5% dicevo è stato classificato come inspiegabile cioè come UFO e Nick Pope ha perfino detto che secondo lui il fenomeno era probabilmente di origine extraterrestre Nick Pope è uscito allo scoperto come ho fatto anch'io perché pensiamo che si tratti di una cosa molto importante soprattutto per il nostro tempo in cui si può temere per la nostra sopravvivenza viviamo in un tempo molto particolare nel 1976 ci rendemmo conto per la prima volta del significato del problema del buco nell'ozono e fu proprio in quell'anno che per la prima volta apparvero i cerchi nei campi di grano da allora il fenomeno dei cerchi si è sviluppato è diventato sempre più complesso che cosa significano i pittogrammi quali messaggi ci vogliono trasmettere i nativi americani conoscono alcuni dei simboli dei cerchi nei campi di grano quando andai negli Stati Uniti un indiano Hopi mi fece un disegno di un pittogramma del tutto uguale a uno che avevo fotografato in Inghilterra mi spiegò che si trattava del simbolo del creatore e che il giorno in cui l'avessimo visto avremmo dovuto tenerci pronti ad accoglierlo abbiamo studiato attentamente i simboli presenti nei cerchi nei campi di grano ed abbiamo constatato che sono identici ai simboli disegnati dai nativi americani specialmente dagli Hopi dalle popolazioni Dogon in Africa dagli aborigeni australiani molti popoli cosiddetti primitivi conoscono questi simboli da anni e anni ma ciò che è molto stupefacente è che se esaminiamo le immagini che sorgono nella mente di una persona in profondo stato di meditazione ci rendiamo conto che sono gli stessi simboli cosa significa? significa che quando l'uomo è in pace torna profondamente in se stesso e trova proprio questa dimensione originale penso che il messaggio che ci viene dato è di ritornare a noi stessi questo è ciò che conta davvero al di là del fenomeno UFO dobbiamo prendere coscienza di noi stessi l'uomo deve prendere coscienza di se stesso delle sue responsabilità verso il prossimo verso il pianeta e l'intero universo tutto è collegato questo sarebbe dunque il messaggio vicino a Stonehenge luogo antichissimo sacro e misterioso alcune colline artificiali sembrano ricordare un evento eccezionale di tanto tempo fa secondo alcuni studiosi esse ricordano l'atterraggio di UFO grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.